Dal 4 gennaio cambieranno le norme sui pigmenti dettate dall'Europa. Che cosa cambia? Cambieranno alcune sostanze, la responsabilità anche penale ricade anche sull'operatore se non si rispettano le regole, sulle confezioni sarà scritto se contiene nickel o cromo il pigmento e quindi l'operatore dovrà informare sui pigmenti utilizzati il proprio utente. Tatuarsi in Europa è ancora di più sempre una garanzia.